Valerio Staffelli Vi lascio le ispezioni di live e noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Ragazzi mi raccomando chiudete questa stream domani capita anche a pennello perché abbiamo gli orali degli esami Chiudete questa stream e andate a studiare Chi ve lo dice ragazzi chi vi dice questa cosa chi è che effettivamente vi dice questa cosa Dice una persona che a 55 anni lavora e porta praticamente dei suini d'oro Manco de d'oro fossero d'oro almeno uno si rivenderebbe ai VIP Il suo apporto nel mondo è nullo come anche il mio apporto nel mondo è nullo e basta E lo dice una persona che mi raccomando studiate più che altro non tanto perché avremo bisogno di medici chimici o biologi E non di youtuber e influencer ma studiate più che altro per non andare a fare la fine di un giornalista su striscia la notizia Un saluto comunque a Valerio Staffelli grandissimo chimico medico e biologo Comunque studiate studiate perché in futuro avremo bisogno di medici e altro Buon giornalista no fa caca lavora in qualche posto umano no lavora in una merda come fa servizi del cazzo Per il più delle volte ma soprattutto magari però è un buon padre Grazie a tutti